Io in pandemia ho fatto la spesa a molte persone della mia borgata e non solo che non potevano permettersi di mangiare Io volevo portare i fiori davanti alla bara, dai è un bacio, mi sta venire da piangere, io non mi merito tutto questo Bella, bella raga Siamo in diretta Buonasera a tutti Sono, vi dico la verità, sono un po' emozionato stasera, vi dico la verità perché la diretta è importante E quindi sono leggermente emozionato, vi dico la verità Sono emozionato, molto emozionato ma sono anche abbastanza triste Perché sono abbastanza triste? Perché moltissimi di voi mi hanno chiamato, mi hanno additato come lucratore Io sono un lucratore, perché sono un lucratore? Perché io oggi secondo alcuni avrei voluto lucrare su un funerale di una povera persona morta Allora ecco perché sto triste Allora diciamo questo va, iniziamo a dire che chi mi conosce da tutta la vita Sa che io veramente non sono un lucratore E' proprio per questo che sto in bianca rovinato Perché io ho sempre fatto del bene nella mia vita Agli amici e agli estranei Io in pandemia queste cose le devo dire Mi dispiace ma le devo dire Perché tanti di voi mi dicono Eh ma se fa beneficenza ma non si dice Invece mi ha decadato il cazzo Io faccio beneficenza e lo dico Perché poi alla fine se no vengo additato come lucratore Io in pandemia ho fatto la spesa a molte persone della mia borgata E non solo che non potevano permettersi di mangiare Se io fossi stato, se io fossi stato nella mia vita un lucratore Come dite voi, brutti sossi Brutti sossi Io adesso avevo 2-3 milioni di euro al piso Ma io nella mia vita non sono mai stato un lucratore Anzi ce l'ho sempre rimesso Di tasca mia Ce l'ho sempre rimesso i soldini Quindi non ho mai lucrato su nessuno Anzi la gente che faceva finta che mi voleva bene Ha lucrato su di me Detto questo Detto questo facciamolo un piccolo passetto indietro Quando è morto il povero Willy Che cosa è successo? Perché il brasiliano è andato al funerale del povero Willy? Voi lo dice il brasiliano perché? Quando è morto il povero Willy Mi sono arrivati alcuni messaggi di alcuni amici Di questo Willy che è deceduto Dicendomi caro brasiliano C'era Willy che ti seguiva Era un tuo fan Era il suo idolo E comunque io ho detto Mi potete documentare che Willy mi seguiva? Mi hanno fatto uno screen E mi hanno mandato Che Willy mi seguiva Io l'ho anche messo come storie Mi sono riunito Con il mio staff E ho detto Regà io vi dico una cosa Sicuramente succederà un casino Infatti io Io solo 13 Non faccio Non mi sbaglio male la vita Dico Se non vi dispiace Perché questi ragazzi Sono contro a tutto questo A tutto questo Perché ho uno staff Ho uno staff di ragazzi seri Che veramente pensano Soltanto a lavorare Dalla mattina Alla sera E non a lucrare Perché a noi Brutti Brutti Infami Non ci serve di lucrare Casomai è la gente Che lucra su di noi Detto questo Che cosa abbiamo fatto? Io Ho espresso La mia voglia Di andare A fare A donare L'ultimo saluto Al poro Willy Come Facendogli Pagando di tasca mia I fiori Che io questa mattina Avevo E volevo fare Questo gesto Io volevo Portare I fiori Davanti Alla bara Dai Mi sta venendo Da piangere Perché io Non mi merito Tutto questo Io Stamattina Ero nato là Tutto carino Tutto pettinato Con sti Cazzo De fiori in mano Con sti fiori in mano Poi Una maglietta nera Ce l'avevo solo io Ma io Ce l'avevo una maglietta nera Perché pensavo Che ai funerali Io perciò Non leggo niente Che i genitori Avevano espresso Giustamente Perché dice Mettete Io l'ho letto dopo Vestitevi di bianco Perché è sinonimo Di candore Di tutto quello Io perciò Non leggo niente Come fate Io non mi interessa niente Io faccio Solo quello Che il mio cuore E il mio istinto Mi dice Allora che cosa ho fatto Ho preso Questo masso di fiori E volevo E volevo Metterlo sulla bara Dare un bacetto Al poro Quelli Sulla bara E annammene E questo E questo Tutto ciò Non mi è stato Permesso Adesso Io A me non è stata Colpa di quello È stata colpa Di quell'altro A me Me ne frega un cazzo Io non addito nessuno Ci stanno L'altri Che additano Il brasiliano Quindi non è stata Colpa di nessuno Di quello Di quell'altro Tanto Ad eletti I giornali E c'è 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 Il discorso È semplicemente Questo Volevo dare L'ultimo saluto Un bacetto Sulla bara E andare via E telare Anche perché Era pieno di gente Mi è stato Risposto Mi è stato Risposto Che io Mi dovevo Togliere Dalla strada Mi dovevo Togliere Dalla strada Mi dovevo Fermare Lì Non mi dovevo Muovere Perché dovevo Arrivare Il signor Conte Allora Io dico Al signor Conte E a tutte Le autorità Che in questo momento Sicuramente Non ci sentono Nessuno Perché il brasiliano È un criminale Quindi Ma chi li senti I criminali Ni sente nessuno Allora Le autorità Se ci fossero Stati in Italia Le autorità Quello che è Successo A Poro Willi O quello che è Successo Negli anni Passati Posso fare Centomila Posso fare Centomila Esempi Se ci fossero State Le autorità Se lo Stato Avesse permesso A chi cazzo Vi parla a voi Lo Stato In quel In quel frangente Quando il povero Willi è morto Lo stava Perché lo Stato A casa mia Se dice Prevenire È meglio Che curare Allora Io davanti Tutto lì Tutto bello Carino Con i fiori Mi è stato Ordinato Di fermarmi Di non andare Nemmeno avanti Io mi dovevo Secondo Alcune persone Io mi dovevo Fermare lì Perché stava Arrivando Il signor Conte Allora Il brasiliano Sai che gli ha Risposto A me De Conte Con tutto rispetto Del signor Conte Non mi interessa Nulla Io sono Un libero Cittadino Io sono Un libero Cittadino Tra l'altro Questo ragazzo Che è deceduto Mi seguivo Anche Era un mio fan E Come dicevano I propri amici Ero il suo Idolo E il brasiliano Voleva Semplicemente Andare A donare Sto masso Di fiori Sulla bara E non mi è Stato permesso Perché doveva Passare Il signor Conte Io Voglio fare Una domanda Al signor Conte Se il povero Uvelli Invece di essere Un ragazzo Di colore Fosse stato Un ragazzo Di colore Di colore Bianco Il signor Conte Secondo voi Ci sarebbe Stato Ma io Al signor Conte Vorrei dire Proprio questo Perché adesso Siamo sotto Elezioni Caro signor Conte Ecco perché Lei Voleva A tutti i costi Perché a me Mi dite che io Volevo apparire A me Non mi serve Io 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 Non sono una persona Così falsa Così suddola Cioè così indegna Io Avrei scelto Altre Altre Soluzioni Io Ce l'ho Altre soluzioni Per andare Ad apparire In altri contesti Non posso Andare Non posso Andare A lucrare Brutti Vermi Io Secondo alcuni Di voi Io stavo Lucrando Su una persona Morta A voi Che sta a partire La brocca Io sono una persona Che è cresciuto Con dei valori Che voi Vi sognate In cartolina I valori Che c'è In brasiliano Alcuni di voi Se li sognano In cartolina Avete capito Quindi Io Non Mi sarei mai Permesso Di andare A lucrare Sul ragazzo Che è deceduto Voi siete matti Si vede Che non me Conoscete Per niente Perché Se Mi Se mi Conoscevate Io Vi do Io vi do La certezza Matematica Che Che non avreste Mai Parlato così Allora Io Ci sono Stato Fermato Non mi Dovevo Muovere Di là Però C'è stato Un agente Devo dire Anche questo Però C'è stato Un agente Dove Già Mi Conosceva Perché A me Mi hanno Bevuto Un par De Vorte I ragazzi Della Ticos Mi hanno Bevuto Un par De Vorte E oggi C'è Stavano Loro Forse Era L'antirapina Non mi Ricordo Chi C'era Quella Antiterrorismo Antirapina Comunque Tu mi devi dare La tua parola D'onore Che tu Gli porti I fiori Davanti Alla Bara Il ragazzo Mi ha guardato E vi dico La verità Apposta Io non voglio Fa Me ne frega In cassa A me Guardi E non guardi E giornalisti Non giornalisti A me Non mi interessa A me Mi interessa Che questo ragazzo Delle forze Dell'ordine Mi ha guardato Un borghese Ovviamente Mi ha guardato Mi ha stretto la mano Mi ha detto A Brasiglia Ci porto io Non te preoccupa E io Che ho fatto Perché Che cosa ho fatto io Volevate Che il brasiliano Ripetesse Il 16 ottobre Vi sarebbe piaciuto Perché voi Ci avete Con me Voi spignete I bottoni Con me Facili Alcune persone Delle autorità Sanno che Delle forze Dell'ordine Sanno che Con me Spingendo Dei bottoni So facile Io A me Mi spegni Due tre bottoni E famo Quello che vi pare Dopo Perché io Sto a disposizione Però questa mattina No Questa mattina Vi siete attaccati A cazzo Perché vi siete attaccati A cazzo Perché il brasiliano Lì Era venuto In segno di pace Il brasiliano Lì questa mattina Voleva semplicemente Donare Un mazzo Di fiori Per dare L'addio Ad una persona Che lo seguiva Tra l'altro Era un mio fan E a detta Degli amici Ero il suo idolo E il brasiliano Voleva andare lì Mettere i fiori E nascene Affanculo A casa Il brasiliano Voleva fare quello E non gli è stato permesso Adesso Da chi Da non da chi Non ci interessa A noi A noi non ci interessa A noi ci interessa Che il brasiliano Non è un lucratore I lucratori Brutte carogne Che mi additate Sono altri Andiamo Vediamo oltre Il ditino magico Che ci avete Andate oltre Io sono rimasto Contentissimo Perché Certe persone Di facebook Hanno scritto Dei commenti Delle persone Che mi hanno odiato Per tutta la vita Oggi Io ho letto Dei commenti Bellissimi A differenza Dei ragazzetti Più giovani Che non mi possono Vedere di instagram Ora Ho suddiviso Le due cose Su instagram Sono sempre Encefalitici Come sempre Su facebook Invece Ho rivalutato Tutto quanto Perché Ho rivalutato Tutto quanto Perché oggi Io Non potevo Essere additato Dai giornalisti Come il neofascista Perché il brasiliano Si è levato tutto Allora Che cosa Hanno pensato Di fare Questi individui Suddoli Allora Siccome Non lo possiamo Etichettare Come il neofascista Troviamo un altro Un altro titolo Per venne Perché questi Vennero Questi sono come Quelli per strada Che vennero No Ogni tanto Te devi inventare una cosa Allora Che hanno fatto Pensiamo bene A un altro Articolo Che possa vendere Troviamogli un aggettivo L'ultra della Roma Certo Non lo possiamo Additare come Il neofascista Hanno pensato bene Hanno pensato bene L'ultra della Roma Perché domani Vennero le copie Questi no Perché domani Sti indegni Vennero le copie Perché Sennò Solo Minocci Massimiliano Hai A essere brasiliano E non vai Non vai C'hai il nome Da peracottaro No Minocci Massimiliano È il nome Da peracottaro Quindi Invece Che facciamo Per venne Perché noi Demo venne Li giornali Troviamogli Un aggettivo Forte Neofascista Però questo Si è elevati Tutti i tatuaci Ci aveva Mussolini Ci aveva tutto Si è tutto Levato Come lo potremmo chiamare Ve lo dico io L'ultra della Roma Allora fa più Fa più audience L'ultra della Roma Fa più audience Così vennemo di più Perché io mi sto sforzando Sto parlando In modo Edulcorato Che io non sono mai parlato In vita mia Io sono abituato A parlare così Io sono pane pane Vino a vino Io parlo come magno Però per paura Per paura E per rispetto Per chi sta Vestiti I sordini Su de me Io parlo in modo edulcorato Ce sarebbe da mannà Vaffanculo Dalla mattina alla sera Ce sarebbe da mannà Vaffanculo Dalla mattina alla sera Ma il brasiliano Non se lo può più permettere Dice il brasiliano Ma che lavoro fai Il brasiliano Fattura i soldini Il brasiliano È un libero imprenditore Che fattura Amici miei Perciò quando Lo vedete Ve attaccate al cazzo Me potete attaccare Come vi pare Anche se questa mattina Ci stavate lì e lì Stamattina ci stavate lì e lì Stamattina ci stavate lì e lì Però vi siete attaccati al cazzo Perché il brasiliano Non si può più permettere Di sbagliare Io venire in diretta Questa sera È stato più complicato Del solito Perché devi stare attento A tutto Devi stare attento A di quella Di quell'altro Io ho pensato Pure un periodo Di accannare Perché a certo punto Mi stanno In qualche modo Facendo tosse Togliere la mia personalità Io mi sono rotto il cazzo Perché a me per strada Tutte queste chiacchiere Non mi hanno mai fatte Per strada Tutte queste chiacchiere Che sto ricevendo Non mi hanno mai fatte 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 Stavano del culo Non hai capito te Però non me lo posso Però ascoltami Ascoltami Però non me lo posso Più permettere Però ne manca È giusto Ne manca è giusto Che una persona come me Che tutti Che sto Che io mi alzo la mattina Vado a lavorare Ora Poi quello che faccio 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 le storie Faccio Quello che cazzo Mi pare Faccio Ma io tutti i giorni Vado a lavorare Mi alzo Mi sto sforzando Per essere una persona diversa E non è giusto Che Io perché adesso È qualche mese Che lo sto facendo Questi personaggi Spingendo di alcuni bottoni Ti fanno bruciare Tutto il lavoro Che io sto facendo Se uno ce l'hanno messa tutta Questa mattina Il brasiliano È stato messo Sono stato messo In uno stress mentale Continuo Per quale motivo Perché Perché ero io Perché Perché ero io Perché loro sanno Che se toccandomi Alcuni punti Mi parte la brocca a me A me lo sanno Che mi parte la brocca Allora io Che cosa ho fatto Siccome sto facendo Un lavoro su me stesso Perché quello che dici tu È verissimo Perché per alcune persone Per alcune categorie Di persone Non Pure si diventi Si mettono Laurevoli a testa Il brasiliano È sempre il bandito Di E non è giusto Però Non è giusto Perché se io divento Una brava persona E il brasiliano Non ti serve più Il brasiliano Non ti serve più Il brasiliano Non ti fa Fa più audience Perché invece Di metterci L'ultra della Roma Ci potevano mettere Il brasiliano Basta Perché non ci hanno messo Solo il brasiliano E ci hanno messo L'ultra della Roma Perché Allora facciamo così Siccome Sono stato abbastanza chiaro Io Nel salutarvi Volevo fare Un appello Ad una persona Molto Importante Per la mia vita Allora Cara Cara Licetta Io lo so che tu mi stai seguendo In qualche modo O tanto Ti verrà riportata Questa cosa Il sottoscritto Qui davanti Con questa fascia Da culo Che è odiato Da Diciamo Il 90% Dell'Italia Ti dice Che per me Sei la persona Più importante Della mia vita E quindi Se fai uno sforzo E ritorni da Massi 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 Gli accoglierà Perché Massi Vuole stare con te Per tutta la vita Vorrei fare una famiglia E non solo Perché Io con te vicino Sono Inarrestabile Massi Con te vicino È Invincibile Perché Un grande uomo Al suo fianco Deve avere sempre Una grande donna E tu non sei Una grande donna Tu sei Una grandissima Donna Che è un massi Ti ama E Ti vuole con lui Va bene Questo è stato Il finale Di un incubo Che ho vissuto Questa mattina Alice Diamo Ufff Allima Allima